L'abbondanza stimola la creatività e Michele Pazienza d'ora in poi dovrà usarne tanta per capire chi schierare domenica contro la Turris. I dubbi maggiori potrebbe averli proprio in attacco dove la coppia Gori-Patierno sta dando soddisfazione dove al contempo tornerà arruolabile Lorenzo Sgarbi che nell'ultima uscita a causa squalifica ha visto il match dalla tribuna. Ed allora il tecnico dovrà meditare le scelte e calibrarle ovviamente in base all'avversario che si ritroverà di fronte. Difficile mettere nuovamente in panchina il numero 11, altrettanto folle far sedele il 9 in stato di grazia. Intanto a centrocampo rientrerà Rocca che giocoforza costringerà a lasciare una maglia all'Iotti o d'ausilio, a meno che non si mantenga lo schema propositivo di sabato. In difesa molto dipenderà dallo stato di forma di Michele Riggione che si sta allenando con regolarità ma potrebbe non essere ancora al 100%, di contro Cioncione che scalpita. Intanto negli allenamenti il clima appare decisamente sereno, gestione dei carichi di lavoro per Varelle e Benedetti che stanno recuperando dei rispettivi infortuni. Mini differenziato per l'Iotti e Ricciardi, d'ora in poi porte chiuse per azzare il livello di concentrazione e puntare con schemi e tattica lo scoglio Torre del Greco.